Accostato ai più grandi scrittori, Simenon era in realtà un autore popolare che non si preoccupava più di tanto delle forme artistiche e stilistiche. Eppure la sua grande capacità, la sua grande arte, la sua potenza e immaginifica gli valsero anche la stima dei suoi colleghi. La capacità incredibile di riuscire a scrivere un romanzo anche nell'arco di una sola settimana fu una delle sue caratteristiche principali da far impallidire. Per esempio il nostro Camilleri, naturalmente tradotto in tutto il mondo, inevitabile la trasposizione cinematografica e televisiva che fece per esempio del commissario Maigret un personaggio iconico della carriera e della vita letteraria di Simenon. Credo che non esistano giallisti e autori di noir oggi che non si siano abbeverati alla fonte di Simenon e chi lo nega probabilmente fa solo un torto a se stesso.